Musica La collaborazione c'è perché con la Caritas e con tutte le altre istituzioni cerchiamo sempre di creare quella rete che ci permette poi di rispondere alle varie esigenze del territorio con una collaborazione stretta che sta crescendo sempre di più e quindi ci auguriamo che davvero ognuno faccia la sua parte nella semplicità ma anche nello spirito di collaborazione e l'insistenza anche della Presidente Giuliana a essere qui a fare la benedizione di questo nuovo mezzo sta a dire e a sottolineare proprio questo spirito di collaborazione che ci caratterizza sempre di più Grazie Grazie